Quando faccio il rap o frate capa una raposa Cosa, 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 frate, cosa Quando faccio il rap o frate sul pelicolo Ma non dovresti cercare il tuo lavoro? Sono andato all'ufficio di collocamento Beh? Se stava la lista per segnarsi sulla lista di collocamento Ma buono però perchè il colpo è delicato, eh? Eh... PULL! E pensare che c'è gente che ti crede un eroe Eroe? Siete Trend Topic su Twitter Trend che? Trend Topic, vi chiamano i demolitori I demolitori? Ci piace